i piccoli esploratori oh che bello oh meno male che siamo tutti insieme facciamo dei pirati e vediamo un po' se troviamo uno scrigno oh sì che bella idea Pilu che bello no è davvero bella questa idea Pilu già Pilu dai andiamo corpo di mille balene le vele scendono a metà la nave silenziosa va in mezzo al mar ogni pirata in realtà sta la terra è qua e puntino là in mezzo al mar e nella notte scura scura sarevola sarevola nella radora tutti a cercare tutti a scavare finché il tesoro non si troverà può cominciare questa avventura andiamo là andiamo là nella radora in mezzo all'isola c'è un bel tesoro ma solo la vaffa sa dovezza tre passi indietro a partire da nord misura lì bene comincia qua due passi avanti a partire lassù poi si va dritto e fino là oh guardate ragazzi allora non era un sogno è veramente uno scrigno oh fammi vedere gatto poi ci siamo abbiamo trovato il nostro tesoro fatemi vedere wow 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 bellissimo vieni lampo oh corpo di mille balene ma ci siete riusciti oh apriamo sembra bellissimo oh cominciamo oh ma questo è un tesoro antichissimo ci sono le lire e anche una mamma mia questa è antichissima una delle primissime banconote sono le mille lire oh ragazzi ci siamo riusciti e poi guardate quanti diamanti ci sono oh si lampo questa volta ce l'abbiamo proprio fatta quando eravamo piccoli eravamo un po' sfortunati oh ma adesso guarda quante monetine siamo diventati ricchi siamo diventati ricchi ma gatto poi non sappiamo di chi appartiene questo tesoro non possiamo cantare vittoria ma adesso i pirati non esistono più è vero gatto poi quindi ce lo possiamo portare a casa che bello chissà che cosa diranno le nostre mamme al ritorno oh ragazzi ho trovato qualcosa wow sono i vecchissimi dollari canadesi che bello fammi vedere wow è bellissimo siamo stati bravissimi già lampo e e adesso portiamo tutto il bottino a casa tanti pirati non esistono più già non esistono più e e e valgono proprio una fortuna già si tratta di lire quindi vuole proprio una fortuna ehi ma salutiamo i bimbi se cliccate sopra di me vi se cliccate sopra di me lasciate un pollice in su e se cliccate sopra di me vi iscriverete al canale se cliccate sopra di me attivate la campanellina per non perdere tutti i nostri video noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao chino la in mezzo al mar in mezzo al mar e nella notte scura scura sarevola sarevola nella ragù tutti a cercare tutti a scavare finché il tesoro non si troverà può cominciare questa avventura a giamola a giamola nella ragù in mezzo al mar la c'è un bel tesoro ma solo la vaffa sa dove sa tre passi indietro a partire da d'or misurali bene comincia qua due passi avanti a partire da su poi si va dritti fino là pa 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 Grazie a tutti.